E' una stregoneria molto antica e peraltro assai potente. Venite a scoprire l'incredibile storia di una ragazza trasformata da una misteriosa maledizione e di un giovane affascinante mago, tanto potente da poterla liberare. Finalmente ho trovato una persona che sento di dover proteggere. Lucky Red è orgogliosa di presentare il nuovo capolavoro di Ayao Miyazaki, leone d'oro alla carriera al Festival di Venezia. Cominciamo! Dal 9 settembre, partite per un nuovo fantastico viaggio. Shrek! Caspita! Dai, rifacciamolo! No, 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 no!